In via Lombroso a Milano abbiamo intervistato anche il capogruppo della Lega Nord a Palazzo Marino Alessandro Morelli e l'assessore alla sicurezza della provincia Stefano Bolognini. Eccoli. Alessandro Morelli, siamo in via Lombroso dove è tutto pronto per un insediamento noma di una sorta di campo di accoglienza o di residenza a seconda di come lo si vuole interpretare. I cittadini della zona però soprattutto quelli che hanno subito sfratti o che hanno grossi problemi dal punto di vista abitativo non ci stanno. Io lo definirei campo di degrado non perché sia prevenuto ma perché è il dato di fatto. Quello dei quali arriveranno qua sono le stesse persone di via Dione Cassio che avete seguito sicuramente anche voi e i cittadini milanesi soprattutto di questa zona conoscono una realtà abusiva, illegale che viene premiata in questa maniera. Peraltro lei diceva giustamente si sta lavorando e la invito magari a fare un giro perché ci sono anche per quanto riguarda i lavori chiederemo l'intervento dell'ASL perché a quanto pare bisogna avere anche a cuore non solo l'interesse dei ROM ma anche l'interesse dei lavoratori che devono essere preservati i loro diritti e soprattutto la loro sicurezza. Detto questo, piccola panoramica dopo se volete farla. Qua dietro a 50 metri ci sono gli spazi di sogemi quindi le vendite di fiori e di pesce e sicuramente sarebbe interessante sentire che cosa pensano gli operatori del mercato già vittime di numerose intrusioni notturne che cosa pensano di questa novità proprio come vicini di casa. Come lega in chiave più generale su Milano rispetto all'emergenza ROM, rispetto anche ai problemi di sicurezza che si sono visti tragicamente nelle scorse settimane, come vi state muovendo? La lega è molto dura in consiglio comunale, ricordo che tra le priorità di Pisapia appunto lei l'ha citato c'è l'emergenza ROM, secondo noi un'emergenza, secondo lui evidentemente no, il tutto mentre Pisapia ha causato un buco e questo i milanesi lo devono sapere di 437 milioni. Cioè si parla di tagli ai servizi sociali, di tagli e di aumenti di tasse e di costi per i cittadini mentre i ROM vengono premiati. Questa è la politica di Pisapia, questa è la politica della sinistra siccome peraltro ci sono i ballottaggi molto importanti in città anche della Lombardia è giusto ragionare anche su questo. Assessore Bolognini, siamo in via Lombroso a Milano stiamo vedendo il completamento dei lavori di un insediamento per i nomadi molto costoso peraltro i cittadini della zona, soprattutto quelli che hanno problemi dal punto di vista obitativo che hanno subito sfratti e quant'altro, non ci stanno. Assolutamente, è uno schiaffo in un quartiere popolare ma in generale in un momento di crisi destinare tanti soldi seppur ministeriali a un progetto come questo, soltanto a beneficio dei ROM ci sono migliaia, decine di migliaia di milanesi in difficoltà che da anni aspettano un aiuto, un intervento del comune e che si trovano sempre alla porta chiusa ai ROM evidentemente invece la giunta Pisapia riserva un trattamento di favore e apre subito le porte e realizza addirittura le villette.